Hey guys, benvenuti sul canale dei Diamantola Brothers, io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi nuovo su PES 2016 per il Ball Opening, il secondo Ball Opening riguardo la finale di Champions ragazzi Se non vi siete visti lo scorso Ball Opening andatevelo a vedere perché ci sono usciti 4 palloni neri, niente di meno 4, oggi sono un po' troppo casato, 4 palloni neri ragazzi quindi non ve li potete andare a vedere chi mi è uscito Tanto qui ragazzi vediamo la mia formazione ragazzi vi aggiorno un po', non so quanto tempo fa vi è aggiornato, vabbè nella live, però vedete un po' ragazzi ci sono degli aggiustamenti, voi me lo scrivete nei commenti, fa pure rima Hai capito? Se devo fare degli aggiustamenti me lo scrivete nei commenti, non so, ho cercato di seguire pure un sacco di consigli che mi avete scritto, questi sono i giocatori che ho, vi faccio vedere quelli più forti in banchina, ah questo è quello che abbiamo preso la volta scorsa Quindi lui lo posso mettere, togliamo a lui, che è successo? Addirittura sono andato fuori valutazione dell'allenatore, vabbè poi facciamo così aspetta, togliamo a bacca che non è buono Aspetta, no, togliamo a questo qua, è da Calegion che non mi serve per adesso, mettiamo, mettiamo, mettiamo questo qua Ok, allora questo qui, terzino a sinistro, Alba lo posso mettere al posto di Carlos quando Carlos è stanco, quindi va buono come sostituto, va bene, va bene E queste, quindi questi sono i giocatori che ho in banchina, vedete voi, se mi volete scrivere qualche consiglio Mi avete detto di mettere Tiago e non mettere Mascherano, quindi ho messo Tiago che è 89 ma diventa 86 perché lui è CC, invece qui è Med, cioè Mediano No, va bene, va bene ragazzi, questa è la formazione, ma andiamo al bello, andiamo al ball opening e andiamo ad aprire questi altri 4 agenti sperando di trovare lui ragazzi Quando non cerchiamo Baggio, non c'è Baggio, cerchiamo lui Il mitico argentino, il più forte del mondo secondo me, anche più forte di Cristiano Ronaldo e Pes lo dimostra perché di overall è più forte di Cristiano Ronaldo E' lui, Messi, cerchiamo lui, vediamo se lo troviamo, apriamo il primo pacchetto, il primo pacchetto che è FIFA, primo ball opening, vai Il primo pallone, il primo agente, come cacchio lo volete chiamare? Un altro pugno, un pugno sul joystick, sul joypad Vai, 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 pallone nero mi raccomando La volta scorsa, è giusto in mezzo a due palloni d'oro, giusto, giusto, questo è un campione, questo già fai dribbling, questo già fai dribbling, questo già fai dribbling, chi cacchio sei? Chi sei? Chi sei? Gabi Cioè tu fai tutti quei giochetti, tutti quei dribbling e poi sei Gabi Ma non capisci proprio niente, non capisci Questa è la squadra Però vabbè, cc83 Dai, dai, non ci lamentiamo, non facciamo sempre quello che si lamenta sempre Eh, 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 eh Avriamone un altro, un altro, sempre pallone nero era, vabbè Vai Il pugno funziona, il pugno funziona Pugno maggio Passa paperino con la pipi in bocca No Vai Vai, vai, non mi deludere, non mi deludere, pugno magico, pugno magico, non mi deludere, non mi deludere, no, 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 mi ha deluso il pugno magico Correa, lo sapevo che mi usciva correa Mi uscì già una volta e l'ho scartato Questo non correa, questo non correa proprio in mezzo al campo Guarda la resistenza di 78 Non ce la fai a correa E niente Ci è andata male stavolta, un pallone d'oro Adesso pallone nero però Dai, per piacere Per piacere, dai Che sei il terzo Altri due Dai, stavolta con il dito, con il mignolo, con il mignolino Tacchete Vai, per piacere Non fare lo struvido, pallone nero, bravo Bravo pes, bravo pes Fa che sia Messi o Neymar E Cristiano Ronaldo Quasi mi era sembrato Cristiano Ronaldo Augusto, questo pure ce l'avevo già Questo pure ce l'avevo già E l'ho scartato tempo fa E fa pure rimà Ho diventato poeta Ho diventato Ma porca miseria Pensavo che era Cristiano Ronaldo Pensavo Mi stava venendo Come si dice a Napoli Un tocco Cioè, non un tocco Vabbè, avete capito I napoletani hanno capito Vabbè, apriamo l'ultimo L'ultimo, ragazzi E che Dio ce la mandi buona Vai Pes Per piacere Messi È l'ultima possibilità 10.000 poi li devo conservare per contratti Perché semmai mettono le leggende Vai Pes Per piacere Per piacere Pallone nero Vai, che sia Messi Messi o Cristiano Non ha Uno più 88 Ma chi sei Chi sei Gimenez E che Gimenez Me ne frega a me Uno solo Più di 85 L'unico top player C'è uscito un top player Nella gameplay scorso Qua non c'è uscito Uffa Uffa Che facciamo Ce ne freghiamolo Apriamo un altro Ma si Ma che ce frega Non l'apriamo L'apriamo Non l'apriamo Ragazzi dai Spendo altri 10.000 Però dovete Dovete farmi arrivare Questo video A 250 Mi piace Ragazzi Dai Vi apro un pacchetto in più Mi consumo i 10.000 Che mi servivano Per aprire un altro pacchetto Un altro Agenda Eccoci qua ragazzi Di nuovo Ho liberato di nuovo Gli slot L'ultimo ragazzi Mi accontento Di un overhaul Più di 85 Guarda come te lo dico E' l'ultimo Stavolta è proprio L'ultimo Seriamente Vai Un overhaul Più 85 Per piacere Vai Non uscire pallone d'oro Non farmi la beffa Non farmi la beffa Vai vai Pallone nero Vai Più di 85 Per piacere Per piacere Già vedo che E' un portiere Newer Fa che stia Newer Fa che stia No non è lui Chi sei? Moya Moya Ma chi è? Moya Moya Mi deve uscire Moya Mi deve uscire Moya E niente ragazzi 83 Ci siamo andati vicini All'85 Pazienza ragazzi Questo era il Buon opening Speriamo che rimettono Presto le leggende Così cerchiamo di nuovo Baggio Purtroppo Messi Nemmeno l'abbiamo trovato Konami mi odia Hashtag Konami Odia Jonathan Che dobbiamo fare Ragazzi Purtroppo La squadra è forte C'è una squadra Molto forte Adesso Ma mi manca Mi manca Un bel Roberto Baggio L'itrequartista E un bel Messi Solo questi due Mi servono Poi posso Stare a posto Per tutta la vita Niente vabbè ragazzi Come al solito Se il video vi è piaciuto Cliccate un bel Mi piace Iscrivetevi alla pagina Facebook Degli Amandola Brothers Trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Per tanti altri video Di PES Di tutto Di tutto GTA Simpsons One Piece Pronostici FIFA Chi più ne ha più ne ha Canzoni Dico Morre Action Vi dovete iscrivere E basta Ve lo obbligo Se poi Per caso Il gameplay Non vi è piaciuto Cosa che può capitare Che il gameplay Non vi sia piaciuto Da parte Del portiere Moia Madonna Grazie ragazzi Da Jonathan Amandola Io Amandola Brothers Al prossimo video Ciao Adio Ciao 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 Ciao